Non è chiaro quando il porto Carlo Riva potrà riaprire. È una partita complessa, dice il sindaco ai lavoratori, alle categorie e al consiglio comunale intero. È il periodo più difficile dopo fine ottobre, spiega in apertura, e il mio personale più difficile in questi cinque anni di mandato. Il comune, con un'ordinanza, ha sospeso l'agibilità dello scalo, ma, ci tiene a sottolineare Carlo Bagnasco, è stato un atto dovuto. Credo nel Carlo Riva giunge, ma anche nella legittimità, nel rispetto delle normative. Il comune, anche per bocca dei suoi legali, farà di tutto per far riaprire il porto, anche lavorando di notte se necessario. Prima però occorre il via libera di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. Tutti insieme dobbiamo fare un tavolo e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Ad oggi il porto Carlo Riva è stato ritenuto un porto non sicuro e di conseguenza un'amministrazione è stato messo nero su bianco. È stata sospesa l'agibilità sostanzialmente del porto, dicendo che il porto mancavano le normative di sicurezza per quanto riguarda l'antincendio e non solo. È stato un atto dovuto il nostro che tra l'altro è stato un atto neanche sindacale, come sapete benissimo, ma è stato un atto dirigenziale, quindi una presa d'atto e sostanzialmente un dovere. Il dovere che ha un sindaco e la prima parola è la sicurezza. Al fianco dei lavoratori del porto, tra gli altri, si fa sentire i confesercenti. Enrico Castagnone, del coordinamento del Tigulio, spiega ai presenti che alcune famiglie rischiano di rimanere a casa e che più il tempo passa più si eleva il rischio che molte imbarcazioni non facciano ritorno. Tempi brevi per la riapertura dunque e l'accorata richiesta di Castagnone. Gli avvocati hanno specificato che più che la messa in sicurezza totale basterebbe anche dei rimedi provvisori per far cessare lo stato di inagibilità del porto. La soluzione si può trovare. Anche sul discorso antincendio credo che anche una cosa non fatta proprio definitiva però in modo anche parziale però a regola d'arte possa servire alla riapertura. Quindi si spera che questo chiaramente basti per poter fare la riapertura. Come ribadisco lasceremo a casa veramente troppe famiglie oltre a quelle che già sono rimaste a casa dopo l'amareggiata.